Come è stata ripresa la notizia ieri? Immagino che ci sia stata una felicità, ovvio. Che dicono gli inglesi? Sì, assolutamente, un sospiro di sollievo perché c'era comunque stata tantissima apprezzione sia verso la principessa Kate ma anche verso Recarlo, lo sappiamo, anche se ovviamente la tipologia di malattia era ben differente, era molto più aggressiva verso Kate. Però ecco, ieri pomeriggio questo video che è stato diffuso sui social, poi le breaking news sulla BBC, ITV, Channel 4, le maggiori televisioni inglesi che hanno raccontato questo lungo messaggio sia scritto che anche a voce. Quindi è stato proprio bello sentire la voce della principessa condividere questa sua emozione dopo nove mesi molto duri. I sudditi, i cittadini inglesi, ecco, come dicevo prima, hanno tirato un sospiro di sollievo e sono felici perché comunque la principessa Kate, secondo gli ultimi sondaggi, è il personaggio della Royal Family tra i più amati, per non dire la più amata. Allora, caro Alessandro Allocca, vista da lontano sembra un po' una commedia di Shakespeare, no? L'erede al trono contro il principe ribelle. Il Regno Unito immagino che le simpatie siano solo verso il futuro re William. Oppure c'è chi, insomma, dice povero Harry portato via, magari un giorno si lascerà, tornerà, oppure magari torneranno insieme e faranno pace? No, il mondo è totalmente spaccato in due, anche in un certo senso spinto dalla stampa locale, perché qui nel Regno Unito si sponsorizza William e Kate, perché loro hanno scelto ovviamente di seguire gli obblighi della famiglia reale e mentre dalla parte opposta dell'oceano difendono Harry e Meghan e anche, come dicevo, da parte della stampa americana perché ritengono, come si diceva in studio, che la monarchia sia un'istituzione vetusta, quindi hanno fatto bene a distaccarsi. Però ecco, tornando invece a Londra, c'è parecchia difesa, parecchia protezione proprio nei confronti di William come futuro re, ma soprattutto come colui che dovrà traghettare la monarchia verso il futuro prossimo. Lo stiamo vedendo anche con questa particolare comunicazione, prima se ne parlava in studio, di questo particolare video che in un certo senso è figlio dei tempi moderni. Aggiungo semplicemente un aneddoto ricordando come il principe Filippo, non il Filippo che avete in studio, ma il marito della regina Elisabetta II, ovviamente più che noto, fu lui a introdurre per la prima volta le telecamere della BBC realizzando un documentario all'interno di Plakigan Palace per far vedere come la famiglia reale viveva la routine. Anche un modo per avvicinarsi di più ai sudditi e anche a quel tempo si gridò un po' allo scandalo, mettiamo così detto tra virgolette, però ecco facendo un passo indietro, come vi dicevo, questo tipo di comunicazione è figlio dei tempi moderni, anche questo video rappresenta il futuro della monarchia, come se ci fosse già stato un passaggio di comunicazione, di testimone con il futuro re William e addirittura con il futuro erede che sarà Giorgio, anche se ovviamente al trono c'è sempre Re Carlo. Sì, certo, infatti è arrivato da poco, quindi lunga vita al re. Grazie, grazie Alessandro Allò.